Il Comitato Lavoro Sloggia sta dando i suoi primi risultati. La provincia di Teramo ha infatti cominciato a cedere e c'è una giusta retribuzione per il personale. Ne andiamo fieri. Chi pensava che la nostra azione sindacale in difesa dei dipendenti dell'amministrazione provinciale non producesse effetti è stato clamorosamente sbugiardato. Pensate, la provincia di Teramo ha deciso di rideterminare il fondo per le incentivazioni, anzi per le risorse decentrate del personale dei livelli, significa per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, per aiutare appunto la produttività, quindi tutti quelli che si impegnano di più in provincia di Teramo. E lo ha rideterminato. Adesso il fondo è stato aumentato e è di 1.426.000 euro. Come non godere di una notizia come questa. Pensate, dividendolo per il numero di dipendenti della provincia siamo a 4.362 euro in più a testa. Chiaramente qualcuno prenderà di più, qualcuno prenderà di meno, ma intanto prenderanno. È fatta. Lavoro sloggia. Più soldi a chi lavora. Via d'Italia.